Vi voglio leggere un'intercettazione tra delinquenti. Se ti prendono in Romania, ti danno sette, otto anni per una tuta di ginnastica. In Italia è diverso. Aspetta le prime piogge e raggiungimi. Vieni qui in Italia a rubare. Sta per accadere qualcosa di molto grave. Ignazio De Francisci, quindi non Salvini, non un leghista, che è il procuratore generale di Bologna, ha detto che esiste un flusso migratorio per scopi criminali. Sapete perché? Perché agli occhi della criminalità dell'Est, commettere reati in Italia è un'operazione più lucrosa e meno rischiosa. Volete sapere quali sono i vantaggi che offre l'Italia? Noi offriamo tre vantaggi a chi viene a delinquere. Cioè l'Italia offre ricchi premi e quotidiane.